Il Catania è verso l'Europa? Lo chiederemo ai nostri tifosi. A questo punto non vi resta che seguirmi. Secondo lei ci stiamo avvicinando all'Europa League? Io non sono un catanese, ho assistito ad alcune partite del Catania, sono andato allo stadio, sono un ospite di Catania, sono pertanto un tifoso di Catania, mi complimento con Catania, non so dove potrà arrivare, ma ha i numeri per andare avanti. Sono Erasmus, non parlo molto bene italiano. Tu conosci il calcio Catania? Si lo conosco, spero. Ti piace il calcio? Si, mi piace. E il calcio Catania, qualche giocatore chi conosce? Gomez, un bellissimo giocatore. Ci arriverà il Catania in Europa League? Ma io spero di sì, perché come si stanno comportando, almeno qualche cosa la possono fare. Sicuramente. E come? Io lo dico io, perché sicuramente i 54 punti sono in Europa League. Ce n'ha adesso 39, qua 4 vittori e in Europa League. Allora forza Catania? Sempre forza Catania, sempre, dobbiamo stringere proprio i pugni, non credo. Ci sono squadre un pochettino più in forma rispetto al Catania, anche se sto facendo un buon girone di ritorno. Vedi il Catania in Europa? Insomma, speriamo di sì. Ah non lo so, penso che qualcosa va avanti per loro. Amici di Forza Catania, io e Massimo intanto cominciamo a prepararci per l'Europa. Intanto io vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana e vi lascio con dei saluti molto particolari. Ricordate sempre, Forza Catania! Saluti Antonio Cossa e Stefania Stefano. E un abbraccio a tutti quanti. Forza Catania. Ma Antonio Cossa lo conosce? Stefania Sberna? Ma nessuno. E non ce li vuole? A chi conosce? A mia moglie. Ma allora Stefania Sberna un saluto non ce lo può fare? Un saluto ci faccio, arrivederci. Allora saluti, guardi la telecamera e gli mandi un messaggio. Ah ma saluti, saluti a tutti quanti. No, solo a Stefania, la guardi e la saluti. Ah, la saluto a tutti, tutto Catania. Forza Catania. Salutavo. Ma chi stai salutando? Forza Catania. Forza Catania. Stefania Sberna e Antonio Cossa? Stefania Sberna, ripeta con me. Stefania Sberna. Antonio Cossa? Antonio Cossa. Vi saluto. Vi saluto. Ma sono bravi? Da 1 a 10, che voto gli diamo? È un po' pochino, però li salutiamo lo stesso. 12. Tom, buone siamo, buon saluto siamo.